Lo Spirito Santo aiuta a trionfare sul peccato e sulle debolezze. Dio ha dato i Suoi comandamenti agli israeliti con una promessa condizionata di benedizione. Dio ha dato i Suoi comandamenti agli israeliti con una promessa condizionata di benedizione. Il popolo prospererebbe se obbedisse alle sue leggi, ma subirebbe delle conseguenze se gli disobbedisse. Dei 68 versetti del capitolo 28 del Deuteronomio, Dio ha usato 14 versetti per proclamare il la sua benedizione condizionata, ha usato i restanti 54 versetti per proclamare maledizioni che avrebbero seguito gli israeliti se avessero disobbedito alle sue leggi. Alcune promesse che sono legate all'obbedienza degli israeliti sono come citate, ora, se obbedirete diligentemente alla voce del Signore vostro Dio, osserverete attentamente tutti i Suoi comandamenti che vi comando oggi, che il Signore vostro Dio vi metta al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di voi e vi sorpasseranno, perché obbedite alla voce del Signore vostro Dio. Benedetto sarai nella città e benedetto sarai nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo corpo. Il prodotto della tua terra è l'aumento delle tue mandrie, l'aumento del tuo bestiame e la progenie delle tue greggi. Beati il tuo cesto e la tua scodella. Benedetto sarai tu quando entrerai e benedetto sarai tu quando uscirai. Il Signore farà sì che i vostri nemici che si levano contro di voi siano sconfitti davanti alla vostra faccia. Usciranno contro di voi da una parte e fuggiranno davanti a voi in sette modi. Deuteronomio 28, 1 a 7. Alcune maledizioni legate alla disobbedienza degli israeliti sono citate, ma avverrà. Se non obbedirete alla voce del Signore vostro Dio, di osservare attentamente tutti i Suoi comandamenti e i Suoi statuti che oggi vi comando, che tutte queste maledizioni verranno su di voi e vi sorpasseranno. Maledetto sarai in città e maledetto sarai in campagna. Maledetto sarà il tuo cesto e la tua ciotola per impastare. Maledetto sarà il frutto del tuo corpo e il prodotto della tua terra, l'aumento del tuo bestiame e la progenie delle tue greggi. Maledetto sarai quando entrerai e maledetto sarai quando uscirai. Il Signore manderà su di te maledizioni, confusione e rimproveri in tutto ciò che metterai in atto, finché non sarai distrutto e non perirai in fretta, a causa della malvagità delle tue azioni, nelle quali mi hai abbandonato. Deuteronomio 28, 15 trattino 20. Lezione, le leggi di Dio sono fatte per l'edificazione e la benedizione degli uomini. Cioè, alle persone che obbediscono alla legge di Dio non mancheranno le cose buone, perché le loro necessità saranno costantemente soddisfatte da Dio. Pertanto, tutte le persone devono seguire le regole di Dio in ogni momento. Non dobbiamo solo seguire le sue regole in un momento conveniente, ma dobbiamo seguirle sempre. Tuttavia, Geova, che ha fatto le sue leggi presentate nella Bibbia, non piegherà le mani ogni volta che le persone le violeranno. Egli benedirà coloro che le rispetteranno e punirà coloro che non le rispetteranno. Nel frattempo, Dio è disposto a lavorare con chiunque sia al di sotto delle sue aspettative. Egli perdonerà chiunque abbia violato la sua regola e si pentirà sinceramente. Inoltre, Dio aiuterà chiunque non sia all'altezza delle sue aspettative, fornendo loro il suo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo all'opera, tutti, senza eccezioni, possono trionfare sul peccato e vivere una vita accettabile davanti a Dio. Preghia, caro Dio, capisco che tu hai un principio di benedizione per le persone che seguono i tuoi comandamenti, quindi voglio seguirli. Aiutami a dare tutto ciò che serve per rispettare le tue leggi. Infondi la tua paura nel mio cuore, affinché io possa camminare con prudenza davanti a te sempre. Fal che il tuo Spirito Santo mi dia il potere di seguire il tuo criterio stabilito, così che io possa prosperare per tutto il giorno della mia vita. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.